Giuliano potrebbe essere l'ultima azione per la Roma con Andressa che è a campo da guadagnare partita come una freccia Serturini che viene premiata. Calcia Serturini la sblocca allo scadere del primo tempo la Roma con Anna Maria Serturini un gran destro questa volta non ha potuto nulla Setinia. Transizione di Andressa che ha guadagnato tanti metri palla al piede poi ha calciato molto bene Serturini.